in modo che tutti funzioni ho parlato con il tecnico che dicono sempre le cose a metà ma pazienza allora andate sulla vostra pagina del calendario e andate qui in i miei calendari qui avrete il vostro nome nel mio caso ovviamente sto lavorando su transfer quindi ho eventi transfer ci sono questi tre pallini schiacciate impostazione e condivisione vi apre questa pagina e qui andate in questa parte condividi con persone specifiche aggiungi persone aggiungiamo nel mio caso che è l'unica che mi manca l'indirizzo di Archie Gay qui date invio la tastiera chiede se volete aggiungere un nome io non lo aggiungo e poi dopo schiacciamo su invio ecco che anche Archie Gay appare tra le persone insieme a Ferrara Archie Lesbica e a Matilde Turchi per cui in questo modo condividiamo tutto quanto quindi voi dovete inserire tutte le mail che vi mancano in modo che ci siano tutti e quattro si ritorna al calendario e a questo punto tutti gli eventi vengono condivisi da tutti spero di essere stata chiara e vediamo a tutti i nostri spettatori